Eeeh, l'altro giorno stavo alle poste, servivano il 72, c'avevo il 73, qua d'ecco che arriva uno con d'arco posta e me passa avanti Eeeh, al cassello di porco fa Giorgio, non pia le 5 euro 9, e c'avevo solo quelle, e dietro una fila delle macchine della madonna Eeeh, facevo gli essi con il mio treno, si accreppavo del caldo, sudavo come una bestia, poi vengo a sapere che prima sti tronzi c'avevano l'aria condizionata Eeeh, diceva che piave, e invece costo di stare terrestre, ancora non me si vede la 7 E poi basta, sono andato a casa perché cominciavo la televisione, e poi domani fai video Il mondo è una merda, ma tutto al contrario, la vita è tentato, e l'amore è bancario L'amore si paga, si paga salato, il resto finisce in crisi, ma non l'altro comario, ma non l'altro comario Tutti i problemi del mondo, ci paga un altro, sono andato come le nave C'erano la c'erano loro, e se non sa chi sono loro, sei uno di loro, non uno di noi Può parlare di noi, incontro a posto a loro, mi compote non poco, ma la chiave è qui, è qui Arresta il sistema Arresta il sistema Poi arriva Manuel, che un quarto d'ora dopo, anche lui ci dice cosa non va in questo mondo marcio Vabbè senza dire che mi sballavo, allora non dico le cose, dico tutta la storia, vai Siccome prima, cioè, Ria Uno è un ragazzo del Ghana che abita a Falerone E 50, 60 persone che faccia del tutto per farmi smettere, insomma, o mi tirava l'acqua, o mi dava i cacci Però io gli ho detto che non gli potevo dare i soldi a loro, però c'erano affetto e basta Dopo ci mischiavo tutto, con un secchio d'acqua, senza microfono, lo tengo sempre alto, non lo abbasso E dopo un signore mi ha detto adesso te, 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 e allora questo che ho fatto? A un certo punto Ria Questo mi dava un caccio, sto signore Allora io, mi sono arrabbiato, allora dopo i giorni parlavo e dopo mi sono appoggiato il canale, non sono fatto più A volte mi capita che, allora questa storia, te la dico tutta, c'era una persona che mi tirava l'acqua in una macchina, mi mollava la macchina E un periodo mi veniva sempre, vado su me, allora io, cioè, bagnato tutto E qualche volta, ci stava, e a un certo punto, come faccio? Niente, dopo io so, so iniziato 666, 666, 33366, mi faccio le teste E allora, che fare? Si comincia col partello, ma non spendere più un soldo, nemmeno con le troie Non c'è anche un cazzo che madonna ha compriti E tra che poi la maestra piange, cazzo tutti canta e sa di eleganti E poi lo top chic, borbo plastique, le ranghignolle, raba shot Arresta il sistema 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 I bolletti alzati, è ora di basta, è altro che il giro toglie, ve lo do io il tecnonato. Una bella rivoluzione cattivale, tumbe ca tumbe, esplosione di bombe, mortali, ascelle, taglio, virus della bocca pazza, trattori, caterpillar, lave rovanti, si tira in piazza, tornelli, si ansiosi, valore di dio, c'è da Plissken, la bomba atomica, cazzo passa Arresta il sistema Arresta il sistema Grazie a tutti.